Stiamo lavorando sulla qualità, sul metterci a valutazione delle persone, quindi potenziare quello che è sempre il servizio come con chi usufrisce del servizio stesso, c'ha le idee, c'ha i consigli da dare e soprattutto vanno ascoltate, se tu li ascolti e fai un brainstorming è difficile fare in 100 persone, se lo puoi fare con 2000 persone è più efficace, delle volte abbiamo avuto delle idee di alcuni pazienti che ci hanno cambiato completamente poi nel tempo, quindi è fondamentale sviluppare quelli che sono i rapporti finali di esperienza dove ci dicono non solo quanto è stato bene, ma soprattutto dove modificare, oppure se ci sono cose in più che non ci sono, che non vediamo, perché non fate questo? IANA e INGA non esistevano prima, era stata quella un'idea di Multinetto, un paziente che è stato qua da noi ci aveva detto voi siete come un villaggio vacanze senza l'animazione, ho detto prova a togliere a Costa Crociera l'animazione, ti regna, la stessa cosa ha detto. E noi invece è importante sette giorni qua senza, non dico i l'animatori perché non sono animatori, poi sono persone molto esperte, persone con le lauree, persone anche INGA laureata pure, IANA ha una certa cultura, sono persone di una certa cultura, sono le persone più anziane in genere quelle che riescono poi a intercettare tutti i vari problemi, perché sanno di denti, sanno un ottimo rapporto umano ma sanno tutto, loro questo per esempio il rapporto pacco parodontale lo conoscono, fanno altro ma perché conoscono tutto il resto e sanno intercettare problemi e sanno occuparsi di quella che è l'esperienza di qualità, quality experience, quality experience dove ti posso fare dal check in, dal portare alle cantine di vini a capire se c'è una rottura, se c'è un sanguinamento, IANA di notte fino a mezzanotte, luna, se squilla il telefono non risponde, se c'è un paziente che ha magari un'urgenza notturna, IANA è la prima che si sveglia, non dorme quella, sta sempre sveglia IANA. E oggi parliamo di una cosa che è importante, che è appunto la terapia parodontale, chi di voi ha avuto già questo foglio, penso in pochi perché in genere questo vi si dà quando si parte poi dal policlinico, vi viene data la cartella policlinico, se non vi è stato dato questo foglio c'è un link, questo link che se voi andate a cercare su internet, cosa ho cliccato, questo link qua, ora me lo fa cliccare, che vi porta insomma all'area aftercare, facciamo così, facciamo una stampa, PDF, dentro alla quale ci sono tutte le raccomandazioni di cose che vanno fatte per una volta che si torna a casa, una volta che si torna a casa ci sono delle cose che bisogna continuare a fare o iniziare a fare che sono appunto l'igiene domiciliare, mantenere i lavori che sono di una certa complessità. Questa è come si presenta all'area aftercare, una volta cliccato il link c'è un bottoncino che vi porta al centro assistenza, dentro vi registrate con la vostra mail, avete un bottoncino per entrare con l'assistenza Facebook, voi anche se non siamo amici mandate un messaggio, ok chi è che mi ha tra gli amici qua? Qualcuno, prendete, facciamo il test, prendete, SOS, provate a videochiamarmi, basta andare su facebook.com.sos.tourist, ok e qua è una chat, video chat, si possono mandare link, file, potete fare una foto col vostro telefono ai denti e mandarcela qua su messenger, oppure potete videochiamare, mettiamo in connessione Oleg col medico, con la telecamera, questo è come se il medico fosse a casa vostra, ok, devi avere Facebook oppure devi avere Messenger, Whatsapp, con Whatsapp si possono anche fare le videochiamate, come Messenger, è la stessa identica cosa, ok, abbiamo sia Whatsapp che Messenger, questo ce l'avete qua in alto a destra, qua in alto a destra avete il link di riferimento, poi sul lato sinistro c'è un menu nell'area after care dove ci sono delle sezioni, come vanno puliti i denti e in caso di problemi, ok, se avete un parente, amico che vuole un preventivo, invio contatto e vi manda all'area del sito dove è possibile mandare, qua ora il sito è bloccato e chiaramente non ve lo fa vedere, qual è la prima sezione che ho messo, prima ancora dei problemi, ho messo il mantenimento qua sopra e c'è un video che spiega esattamente come va pulita la bocca, è un video di 16 minuti, ok, qualcuno di voi potrebbe già averlo visto questo video, di questi, questo l'ha visto, di come si pulisce, questo è un bellissimo video che spiega né più né meno come vanno puliti i denti, i denti vanno puliti per farvi, ora non vi faccio vedere 16 minuti, quelli ve li fa vedere Oleg poi il sabato, vi spiega come vanno puliti i piatti, ok, i piatti vanno puliti con la spazzola e con il detersivo, posso pulirli solo con il detersivo? No, col colluttorio, ma non uso lo spazzolino, posso usare solo lo spazzolino ma non il detersivo, sono disinfettati? No, sono solo puliti ma non disinfettati, la stessa cosa è per i denti e le protesi, vanno pulite meccanicamente come l'automobile con l'idrogetto, devi anche strofinare, non puoi solo spruzzare acqua, se no poi come si asciuga e tuta polverosa comunque, stessa cosa i denti, bisogna usare spazzolare, non basta solo l'idropulsore, l'idrogetto, c'è l'idrogetto, tutti gli dicono ah ha fatto l'idrogetto e c'è il tartaro, è certo, puoi pulire tutti i giorni la macchina solo con l'idropulitrice, se non spazzoli, devi spazzolare, sfregare, lo stesso è i piatti, li metti sotto il getto dell'acqua, rimangono oleati, arriviamo anche a quello, va appassato sotto tutto il ponte, c'è il video che te lo fa vedere, infatti proprio per evitare a scanso d'equivoci ho messo qua sotto, riassunto questo foglio, tutto questo schema, quello che va fatto, poi c'è lo schema grafico di come va usato, ci sono gli strumenti da usare, qua da questo lato, spazzolino, scovolino, pulisci lingua, i vari disinfettanti, tu direi devo usare due disinfettanti? No, perché il numero 4 lo usi da 0 a 30 giorni, il primo mese, il numero 4, poi il secondo mese userai il numero 5, che è un colluttore invece più delicato, perché il primo mese devi usare poi, scusami, il secondo mese devi mettere quello più delicato, perché devi usare il punto 6, che sono i batteri buoni, oreo flor goce se non lo trovate in farmacia, oppure il gamperio balance, questo qua, non ci avete scuse, perché vi ho messo anche il link, ok, direttamente clicchi e lo trovi qua, qua ci avete tutto quanto, la farmacia online, poi se preferite fisica, basta che andate con questo foglio, lo stampate, andate sulla pagina dell'after care, che è questa, per esempio, command P, stampa, e ti stampa tutta la pappardella che c'è scritta là, e gli dici, guarda, mi servono questi attrezzini qua, kit scovolini, gamperio balance, oppure reo flor goce, se non ce li ha, torna la settimana dopo, quando ti chiama il farmacista, vai e ritiri il pacchettino con le cose, poi la cosa ideale, io ai pazienti facevo scrivere sempre su ogni cosettina il numero, tipo, che ne so, il colluttorio numero 4, scrivi sulla confezione 4, così sai la sequenza, la sequenza, questa la puoi stampare, te la metti in bagno, sai la sequenza, quindi, di come la devi usare, all'inizio ci mettere un po', a capirlo, poi alla fine la butti quella perché sai già quello che devi fare, e dopo, se proprio non hai visto, perché Oleg non ti ha spiegato come vanno usate, nella seconda sezione ci sono proprio i video, ti fanno vedere come usare lo spazzolino e anche il filo, il filo tu lo passavi così, attorno all'impianto e lucidavi, ma non facevi questo che fa adesso, guarda eh, lucida tutto il ponte ora, con la spugnetta, e questo è il filo che usano i bambini per l'apparecchio, c'è una spugnetta, lucida gli impianti e poi tutto sotto il ponte, lucida, però poi dopo che è lucidato cosa dovrei fare? Risciacquare con? Con l'uttorio, disinfettante, va bene anche l'acqua e bicarbonato, perché l'acqua e bicarbonato va bene? Perché alza il pH, è basico il bicarbonato, invece i batteri producono acidolatico, abbassano il pH, il pH basso fa creare poi il tartaro che sarebbe tipo il calcare della cornetta della doccia, se tu ci metti bicarbonato lo togli via, quello. Non metto il colutorio direttamente nel litro? Puoi mettere, il colutorio diluito va bene, per esempio io colutorio, ti dico io bevo, mi sono rovinato lo stomaco, racconto un aneddoto, anzi mai fare bere a chi conoscete la Red Bull, ma a me ha spaccato lo stomaco, c'era un periodo che lavoravo molto, il periodo che viaggiavo molto, mi svegliavo, bevevo una Red Bull e iniziavo a lavorare, avevo molti pazienti compattati perché poi dovevo partire in Europa. In tre mesi mi sono spaccato lo stomaco, colutorio non lo reggo, ma come me tantissimi hanno il reflusso gastroesofageo, hanno problemi di ulcera, ti dico già, io vi ho messo qua dei colutori che è vero potrebbero macchiare leggermente con la clorexidina i denti, anche se ci sono dei colluttori che non macchiano, che sono il Curacept. Se voi prendete il Dentosan, questo è un piccolo dettaglio, il Dentosan colluttorio, che è quello verde, questo verde non ha l'antidiscoloration system, che è il sistema antimacchia, perché la clorexidina ha un unico inconveniente, che è leggermente macchia. Se voi invece di prendere questo che è leggermente macchia, prendete il Curacept, il Curacept ha un sistema che si chiama Anti-Discoloration System, ADS, che serve proprio all'antimacchia, evita di creare le macchie. Questo che suona pazzo. Se lo vendono, ma costa un po' di più il Curacept, lo potete diluire leggermente, lo potete anche diluire almeno due volte al giorno, è meglio usarlo. Sì, sì, sì. Qua non c'è, in Moldavia non c'è. Ok. Vi ho messo cose che si trovano in Italia. Sì. Costa sui 9 euro questo flaconcino, ti dura due settimane, se lo diluisci anche un mese ti dura. Ma la parte più importante è questo, perché è come il detersivo, il disinfettante. Se tu hai solamente il pulito con lo spazzolino, ma non disinfetti, questo ammazza i batteri. Capito? Il 99% dei batteri, questo li ammazza. Quindi hai una bocca che è sempre disinfettata. E quando è che fai soprattutto il colluttorio? La notte prima di andare a letto, perché la notte le ghiandole salivari vanno a riposo, dormono. E quindi non produce più saliva alla bocca e non è autodetergibile. Quindi ristagna il pH, va giù, perché iniziano a produrre l'acido lattico, i batteri. L'acido lattico, abbiamo detto, cosa fa? Abbassa il pH e si crea il tartaro. Il tartaro crea questa cornetta opaca prima, poi diventa incrostata e lì, ormai una volta che è incrostata, serve l'aftercare per pulire l'igiene. Ok? L'igiene professionale. Allora, l'isterine per me è come bere 10 caffè. Proprio mi sveglio che ho una cianchiogia, che ho acidità, perché sono due giorni che sto di nuovo riusando l'isterine. Soprattutto la notte, se lo fai, vai a letto, c'è anche quello senza alcol, però è veramente forte. Se non lo tolleri, è come bersi tre bicchieri di vino e poi andare a dormire a stomaco vuoto. E magari anche un caffè. Ti svegli con la bruciore di stomaco proprio. Io sono tutto il giorno a bruciare di stomaco, non riesco a parlare. L'aceto è meglio non usarlo. Quello va bene per pulire il frigo. È un ottimo disinfettante, però... Allora, andiamo avanti. Niente aceto. È solo per il frigorifero. Perché è importante questo mantenimento? Io l'ho messo prima ancora dei problemi. Ok? Perché lo scopo è non avere i problemi. Ci possono essere poi dei problemi precoci, tardivi, più avanzati, più o meno avanzati. Vediamo se ho il libretto Aftercare. Ve lo faccio vedere. Aftercare. Libretto. Libretto. Book Aftercare. Buchline dentali. Non ce l'ho qua. Libretto logistica. Ci abbiamo un sacco di cose, meno che quello. E c'è un libretto comunque dove c'è, punto per punto, ve lo può far vedere Oleg in clinica. A seconda del problema che si presenta, come va risolto? È un protocollo. E quindi cos'è il protocollo? Dove cercare qua. Protocollo. Vediamo tipologia, PDF, page, contratto, libro, indice nuovo libro. Eh, non lo trovo qua, non lo vedo. Su questo libretto c'è, insomma, spiegato quello che va fatto nei vari tipi di problemi. Questa lezione, ora iniziamo con le cose più interessanti. Vediamo tutti i problemi che si possono avere. Una parte, non tutti, non tutti, tutti ne vediamo una parte. Ok. Andiamo buio. Abbiamo fatto questi mesi una bella raccolta di quelli che sono i problemi che si potrebbero avere. Una cartella dove stai leggendo? Seconda colonna, decimo primo. Uh-huh. Questo per chi ha ancora denti con, che aveva tasche parodontali. Ma che cosa vuole avere? Una visita da un parodontologo. Ah, ciao, ciao. Le prese. Se è diabetico, abbiamo fatto, che ne so, l'occhio bionico, perché l'hai perso a causa del diabete, ma ricorda che devi andare dal diabetologo. Ok, chi ce l'ha parodontite? No, la cartella. Non capivo cosa vuole essere. La cartella parodontale, quando tu vai poi a fare dei richiami, ok, bisognerebbe essere fatta questa. che è un grafico, uno schema grafico di dove sono i problemi. Ok. Il dentista ti creava una cartella, poi, che ti monitora negli anni. Ah, sui tuoi denti. Sui tuoi denti. Chi ha solo impianti dentali, questa roba non la fanno. Ma i pazienti che hanno una piorrea in stadio avanzato, che molti denti vengono mantenuti, quelli ogni sei mesi, quattro mesi, conviene andare con una sonda a vedere che non ci siano degli scollamenti delle gengive. Per quale motivo? Perché dentro alle tasche poi si selezionano i batteri che non hanno bisogno di ossigeno, che sono quelli cattivi che creano poi i danni. Quello che vi ho portato qua, invece, sono più che altro danni meccanici, ok, potremmo definirli così. Ed è una collezione di una parte dei problemi, di fotografie che ci hanno mandato negli anni i pazienti. Ok, queste Oleg le conosce a memoria. Sono fotografie di casi reali, ok, di problemi reali. Buongiorno, poco fa mi lavavo i denti, è scesa questa vite. Vedete lì il foro? Vediamo, aspetta, provo ad aprire il pdf, perché il pdf lo posso zoomare. E vi faccio vedere i dettagli, perché se l'occhio non è allenato, non lo vedete. Eccola qua. Ok, cosa può essere successo qua? Ah, il tappo. Ok, succede qualcosa? Oleg, vieni qua, facciamo interattiva, che questo è bravissimo Oleg, in questo. Dai, vieni qua. Sedia. Oleg vi dice quello che va fatto in questo caso. Ok. Cosa fareste voi? State mangiando e c'è il tappo. C'era il tappo, è stato messo l'impianto dentale, intanto perché si mette quel tappo lì? Per far guarire la gengiva, vedere dove stava l'impianto e poi attaccare il dente. Soluzione? Indovina, assistenza gratis per sempre. Un dente in più. Prendere, prendere una vite buronata da quattro e tappare il buco. C'è arrivato, tappare il buco. C'è un buco, tappa il buco. Quindi evitate di ingoiarla. Giusto. A me, posso dire una mia esperienza? A me, lavandomi i trenti con l'idro, mi è saltata la copertura di questa vite che avevo qui. L'otturazione. 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 Adesso che non aveva... Infatti è uscito poi questo filo di teflon. Il teflon che mettiamo per rivedere dove poi il caccio... E non lo faccio andare nella roba. E ho messo nella plastilina. Bravo. Improvvisazione. Vendono in farmacia, per esempio... Passate, ho chiesto un po' di preoccupia. Sì, 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 vendono... Se andate in farmacia, vendono questa. Otturazione provvisoria farmacia. Ok. Otturazione dentaria. La vendono... E' una pasta che si mette sul dentino. Vediamo se qua c'è il... E si indurisce da sola con la saliva. E né più né meno che quella che usa il dentista. Cavixin. C'ha un tubettino. Questo è il cavit. E se tu apri il nostro cassetto c'è questo lì. Prendo una spatolina. Prendo un pochino di pasta. Spremi il tubetto. Ti leggi le istruzioni e le vai a mettere sopra il tappo. Il foro, scusa. E ti sei chiuso da solo il foro della vite passante. Qua chiaramente non ci puoi mettere la pasta perché è gengiva. Ci rimetti la vite. Vai dal dentista. Queste sono viti compatibili con tutte le viti tappo che hanno i dentisti. Con tutti i cacciaviti. In genere si fanno pagare dai 30, 40, 50 euro anche gratis. Dipende. Che ci vuole fare così? 50 euro. 50 euro. A stringere una vite. Non sai che... È il trattamento più costoso che c'è dal dentista. Rimettere la vite tappo. Sì. Rischi. Tu sai benissimo che se tu vai da un dentista normale... È un medico che in caso di un malato c'è un problema deve curarti. Hai fatto il lavoro e tu dici... In molt'abbia. Eh sì. Scusa, è medico di base e ti dice dove hai preso il raffreddore. Eh di solito il medico non te lo chiede. Un medico. Come? Il dentista è un medico. Un dentista invece te lo chiede. Eh ma è un medico il dentista. Eh ma... No, non è vero. Quante volte voi siete andati da altri dentisti eppure ci hanno rimesso mano altri dentisti dopo? Quanti dentisti avete cambiato? Ho cambiato 5-6 dentisti. Quanti parrucchieri? Ho cambiato dentisti. Sì. La domanda è che ti hanno sempre fatto... Importante che paghi. Sulla poltrona. Ma chi ti ha fatto questo lavoro? È normale. Ma c'hai un parrucchiere che si rifiuta di tagliarti i capelli perché ti hanno già tagliati altri parrucchieri? No, però... No, no. No, no, no. Non è anche il genitore. Però ti posso dire che iniziare a caricare sul pezzo. Vai da un altro. E poi vai dall'altro e dici se... Continua. E non... Ci abbiamo i centri assistenza. E bravo. In quei casi, ok, basta che voi ci contattate qua sul sito dell'Aftercare. Dove sta il contatto? Qua. Chi vi risponde? Oleg. Questo è il numero di Oleg. Se volete parlare con Oleg, cliccate questo. Lui vi risponde a tutte le... Non dopo le otto. Non dopo le otto. Ok. Ogni tanto cerca di risolvere veramente tutto, quasi tutto, però ricordate che siamo anche umani, ci abbiamo... Questo non è un problema, ok? Questo, la verità è che questo non è un problema. Può stare il più delle volte anche così il paziente. Sì, però dopo la gengiva si richiude. Si richiude, quando viene qua anestesia, la riapriamo e mettiamo... e facciamo l'impronta. Non c'è il rischio che si crea infezione? No. Uno su un milione. No. Ok, andiamo avanti. Questo è un problema. Perché? Perché è un problema? Come va in giro il paziente così? Come va a cena con la fidanzata? Questo è un provvisorio, denti in plastica. Denti in plastica con la barra che collega gli impianti. Perché si è rotto? Perché? Avrà strappato. Avrà strappato. E' una delle motivazioni, ma è perché non sono sensibili quei denti. Non sa quanto forte sta strappando, perché non sono sensibili. Non sente il caldo, non sente il freddo, non sente la pressione. Sono delle parti, come che io ti metto il braccio di gomma, perché hai bruciato il braccio? Perché hai messo sul fuoco o perché non sentivi il calore? La verità è perché non sentivi il calore, se no non ti bruciavi. Puoi anche mangiare, masticare, se però non ti limiti visivamente col cibo, se hai provvisori, sai che più dell'uovo sodo, della fetina di pollo, non devi mangiare con i provvisori di plastica. Perché è un periodo delicato, quello dove non devi condizionare la vita alle altre persone, ti fai il ripiano nel frigorifero con le cose che puoi mangiare, ok, gli altri mangeranno tutto il resto. Tu per sei mesi, un anno, devi mangiare cose morbide e liquide. Ci sono tante cose morbide e liquide. Brudini, avete conosciuto qua, Pizzamanga, minestrine, passate, bravo, purè di patate, purè, molto diffusa, sempre Brudini, moito, io posso dire però che per 11 mesi... No, no, non dirlo. Non si dice questo. No, noi stiamo facendo queste lezioni, ok, addirittura gli ho detto di farle due volte a settimana, Oleg, perché dobbiamo fare tipo i pacchetti di sigarette, no? Così smetti di fumare. Guarda quanto zoomo anche, come fai ad andare in giro così? Non puoi. Guarda questo. Questa ci ha mangiato. Dov'è che si è rotto? L'impianto è qua. L'impianto segue l'osso, ok, se l'osso è qua l'impianto va messo qua. Poi esterno c'è il dente, chiaramente non si rompe qua, si rompe esterno dove c'è sotto, effetto leva, si rompe, si scheggia. Però questi sono tutti mesi. Questo è composito, ok, ma sopra aveva denti in ceramica suoi o... Un lavoro diverso ci aveva sopra. Quello vince contro questo. Però per evitare di rompersi questo... Torrone? No. Perché sono denti artificiali. Non ci mangiare... Poi i cibi X, quali sono i cibi proibiti? Le nocciole, i cibi che hanno i noci, le torte, i torrone, la torrentina, no? Dolci fatti in casa, fate attenzione perché i gusci sono dentro ai dolci, i guscetti, non te ne rendi conto. E' così ormai quando te ne rendi conto che c'era il guscetto. Per quale motivo? Perché non sono sensibili. Quindi ci sono, senza condizionare la vita agli altri, delle cose che non dovrete più mangiare. Sono i cibi X, quelli che possono avere sorprese. Ma più possono avere provvisori? Anche con i definitivi. Se tu hai una gamba bionica, che mica ci salti dal terzo piano e dici, eh, si è rotta. Se è bionica, quella non è che più ha prestazioni migliori dei denti naturali. È il contrario. I denti naturali ci rompono anche le ossa del pollo, ma anche lì il rischio è che si rompa il dente. Ma perché non si rompa il dente? Perché è sensibile, ti fermi prima, ti fa male prima di arrivare oltre al limite di flessione, di sopportazione. Ti avvisa. Ok? È come se tu sollevi i mattoni, ti fermi prima di arrivare oltre il limite. Ma se io ti metto le braccia artificiali, si rompe il braccio. Bravo. E noi stiamo lavorando a quella. Bocca bionica. Bravo. Guarda che questa non è una sciocchezza, è proprio su quello a cui sto lavorando. Proprio dare di nuovo la sensibilità alle bocche bioniche. Perché se tu risolvi quello, hai risolto un sacco di problemi. una piccola scossettina che viene irradiata nel periostio quando superi un certo valore soglia. Si può mettere questa roba dentro alle protesi. Il titanio conduttivo poi sul periostio è fatto. Ci ha pensato ancora nessuno. Siamo al lavoro sulla bocca bionica. Questa cos'è? La vita di guarigione. La vita di prima. Non buttatela. Costa 20 euro questa. Non buttatela. Dove l'ha trovata questa? Dipende. Dal ferramenta. Dal ferramenta. No, un fazzoletto quello. Ok. Questi denti provvisori. Che è successo? Ha strappato. Ha strappato. Vedi com'è la frattura a becco di flauto? Dici, si sono rotti da soli? No. Questo è becco di flauto. E strappo questo. La fine si rompe. Ma prima l'hai crinato. Ma prima l'hai crinato. Non ti deve essere ricordo. No, no, quello è stato proprio quello dei primi mesi. Ci possono... Di notte? 9 su 10, quando si rompono i denti? Di notte. 9 su 10 si rompono i denti. Perché non controlliamo. Non puoi pasmi muscolare. quelli... E basta. Spasmi muscolari sono quelli. 9 su 10, sempre di notte. Non stavano mangiando nulla. Si rompe. E' a pranzo. Questi ecco, quelli che dicevi prima. I tappini. Questa è una protesi provvisoria. Con i tappini. Ok. I giallini. Questi li mettono. E' una resina diversa che si usa per capire dove dobbiamo stappare. E' un tappino gommoso. Delle volte lo mettiamo quello per andare più veloce. Lo acchiappi con uno spilletto. Tiri e stappa. Però quello vede, pensa che è una carie, un buco. Non so, non capisce. C'è avete dei fori nelle protesi. Sono come i bulloni per le ruote. Gran premio. Smonti, tac, riabiti. Ma questo è prima di mettere i definitivi. Sì. Questo? Una volta, prima di mettere i definitivi. Questo mi piace. Prima dei definitivi. Anche nei definitivi c'è un'otturazione più rigida, più estetica, che non vedi. Noi la vediamo. Delle volte si può vedere. Qua che è successo? E' scesa tutta. E' scesa tutta, è sbagliata. Il contrario, è salita tutta. Sì. Cosa è salita? Si è ritirata la gengiva. Si è ritirata la gengiva qua. Ma questi sono provvisori comunque in PMMA, no? Questa è plastica. Plastica è questa, non sono definitivi. Ha fatto la chirurgia. Dopo l'intervento. E gonfio. E gonfio. Prendiamo le impronte. Montiamo i denti provvisori sulle gengive gonfie. Dopo la gengiva, vum. Si ritira. Si ritira la gengiva. È normale. È normalissimo questo. Non vi dovete sbagliare. Più spazio si crea è meglio è perché passate lo scovolino in mezzo. Così potete pulire meglio. La protesi c'è un impianto qua, un impianto qua. Però ci si creano degli spazi dove non ci sono gli impianti. E lì va pulito. Ok, bisogna spazzolare. Per mesi lì si va con l'idropulsore per togliere i pezzettoni grossi. Poi con gli spazzolini ci entri bene bene bene. È lucido. Quanto tempo dopo l'intervento possiamo? Due settimane, due o tre settimane. Meglio non scocciare la ferita, il lembi. Sennò c'è il rischio che vai anzi a spingere acqua sotto ai lembi. Quindi questo è un problema? No. Non è un problema. Alcuni sono problemi, altri non sono problemi. Però il paziente si spaventa chiaramente. Dice vedo quella roba là, ma con i definitivi questo spazio non c'è. Perché? Perché si prende l'impronta, non va di zecca, già le gengive sono guarite e quindi si fa tutto un lavoro da capo. Quindi questi spazi, vabbè la gengiva con il passare d'età si ritrae, però stiamo parlando di millimetri, millimetri, millimetri. 0.2 millimetri all'anno si ritira la gengiva e non sempre. Quindi questo si colmerà con i materiali da simulazione. La gengiva artificiale si mette. Poi si può ripanzare anche, non vedo qui, ma andando dove ci staranno. Centri assistenti. E' una ribassatura, si. Una ribassatura. Questo cos'è? Questo è un problema? Si è spezzato un uropello. Cos'è? Un uropello. Un dente. Ma è molto rosso anche un gengiva. Si è staccato il dente dall'impianto. Non lo ricorda neanche questo. Questo non è un impianto nostro. No, si siede di diverso. Diverso perché noi gli avremmo fatto i denti anche qua dietro. Questo è un suo impianto che aveva già prima e si è rotto. Sicuramente ce l'ha in data base per dire se si può fare qualcosa quando torna. Abbiamo preso le foto che c'erano in tutte le mail. Alcuno potrebbe non essere un problema. Ecco, questa era faccette staccate. Centro assistenza. Composito fluido. Si riappoggia qua. Si ringolla. Quando poi è il momento di tornare, queste si sostituiranno con materiali nuovi, definitivi. Basta semplicemente prenderle queste e riattaccarle al negativo di dove deve andare, l'alluccio, e si rincolla. Qua cosa si vede? Ha strappato anche sopra. Questo è strappo, non è taglio. I denti anteriori servono a tagliare, non a strappare. Ricordate sempre questo, perché non sono sensibili. Questa è tutta roba artificiale. Questa è anche mangiare un pari di filo di toga adesso. Lo tagli. Il panino lo tagli, ma non così. Si morde, si taglia. La carne la tagli col coltello, la mastichi. Ma non vai a strappare la carne. Ci sono movimenti che vanno corretti con le protesi artificiali. Non puoi fare l'uso dell'arto artificiale, dell'arto naturale. Sono diversi. L'arto naturale è molto più flessibile, performante. Ci puoi anche mettere l'arto qua dietro. Quello ha dei movimenti limitati. Non è sensibile, flessioni limitate. Il materiale ceramica non c'entra nulla con lo smalto, con la dentina, con l'osso, il titanio che c'entra. Uno è un metallo, l'altro è osso vivo, mineralizzato, elastico, con collagene. È un materiale perfetto l'osso. La dentina, il dente, è ammortizzato. L'impianto non è ammortizzato. È come una macchina senza ammortizzatori. Andiamo avanti. Questo non capisco. No, qua niente, non capisco. Questo è un provvisorio in resina. Che è successo? Scolato. Ha saltato un dente laterale. Una shell di dente provvisorio, questo si riattacca. Si riattacca, si rincolla con una resina semplice. Si rimette là. Vediamo 30 minuti. No, lo fai da dentista. Centro assistenza. Non c'è bisogno di venire in Moldavia per fare questo. Anche questo costa quanto? 50 euro. 50 euro. Non male che non erano oltre. Non erano mai che non erano oltre. No, era 150. Non erano i cento e cinquanta. Però ti ha fatto la fattura. Sì, sì. Onesto. Onesto. Bravo. Poi mi sono soffertito anche. È simpatico. Questo cosa sono? I punti. Ehi, quante volte. I punti che vanno via. Dottor, ma è normale che... Sono reassorbibili. I punti sono tutti reassorbibili. Un arco di un mese, dipende dalla consistenza della saliva e di quanto usi l'idropulsore, vanno via da sole. Quindi su quello stati tranquilli. Non succede nulla. Anche se rimangono due mesi, non succede nulla. No, si scioglieranno, ve li troverete in bocca da sole. Piano piano. Ma è raro che un paziente torna e che c'è ancora i punti. No, mai visto. Aspetta, guarda quell'ultima fotografia. Questa. Questa? Eh, guarda. Lei ha spesso. Guarda. No, questa è una chelite attinica, che è diverso. Deve mangiare vitamina B. Eh? Quella è chelite attinica, deve mangiare vitamina B. Invece a me? L'herpes è... L'herpes è un po' più giù e dai le bollicine. Quando invece? Non puoi ci capire la bollicina. Se è un taglietto senza le bollicine, quella è chelite attinica, non è herpes. Dopo, quando si rompono le bollicine, non riesci più a aprire perché fa male, ti crea le croste. E metti che cosa lì? Vaselina. Sì. Un po' di vaselina che lo rende morbido. Sì. Da quando si rompono le bollicine, la pomata non serve più a nulla. Quella, lo Zovirax. Va messo lo Zovirax prima che si rompono le bollicine. L'herpes. Appena l'ho sentito. Ormai ha sfogato quando ha rotto. Lo Zovirax non serve. Non capisco perché ha messo sta foto. Si vedeva l'impianto. Che cos'è questo? Sì. 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 Brava. Che ha rispondito? Sì. Che ha detto? Ha esperienza. Ma va? Ha esperienza. Brava. Cosa si fa con l'ascesso? Medico di base, antibiotico. Antibiotico. Non serve neanche andare dal dentista. Vai dal medico di base. Se vede la prima cosa cosa ti fa? Una panoramica. Dalla panoramica ricerca focci dentari. Lì si vede se c'è un granuloma. Se no proprio vai dal dentista e ti dà lui l'antibiotico. In genere quanto si prende per una prescrizione antibiotica? Sette giorni. Sette e dici giorni. No, soldi. Quanto? Venti euro. Venti euro. Se no gratis vai dal medico di base. Ok. Ho sempre aspettato che passasse da sempre. Meglio prendere, fare la terapia canalare oppure... Dipende. Delle volte noi cerchiamo di salvare i denti, ma se rimangono comunque dei denti che le radici non fa disinfettare, perché le radici dentro hanno un canale che non è cilindrico, sono tipo i rami di un albero. Però gli strumenti che usiamo noi per disinfettare sono dei fili dritti, non hanno questa forma. L'unica cosa che possiamo fare negli altri canalicoli è con l'ipoclorito, la varecchina, cercare di tenerla più a lungo e sperare che disinfetta. Però il più delle volte non disinfetta, uno su due non riesce a disinfettarlo e ti sfoga e poi l'accesso. Quindi un dente ritratta... Chi ha fatto mai i ritrattamenti canalari? Devitalizzazioni, ritrattamenti... Ok. Quelli sono casi che possono avere questo problema qua. Si fanno con più attenzione, si lascia di più il disinfettante. Se è uno, due è un conto, ma se ne dobbiamo fare dieci di ritrattamenti canalari, un po' iniziano a diventare troppe le probabilità di insuccesso. Ho capito. Quanti ne hai fatto i ritrattamenti? Uno. Uno. C'è che ne deve fare dieci. Ho fatto in Italia da fine, però... Andrei... Continua... Ho fatto un continuo nero, mi ha dato le rapizze, mi ha detto, lo rifacciamo... L'ha ridisinfettato. E poi ho fatto il peggio, sì, ma... C'è una regola, se avevi già dolore e ritratti, non dico la devitalizzazione, il ritrattamento è quando ridevitalizzi. Quando lo ride, riapre, il dente è morto, che avevano tappato il nervo. Se c'era dolore, hai una probabilità su due, di non avere problemi. Se non c'era dolore, 75-80%. Invece, quando devitalizzi il dente, non aveva pus, quasi 98%. Se c'era pus, 70%. Dipende quello che c'è. Non mi faceva molto male, però... No, infatti ero preoccupato perché... E' un problema questo? E' un problema? Fa male. Ok. Fa male. Mentre gli altri denti roti non fanno male, questo sì, lo senti. E' più fastidioso? Guarda, paziente con i denti rotti così davanti non ha dolore, come quello avete visto prima. Questo potrebbe avere dolore. E se non dorme, è fastidioso. Invece, con i denti rotti, sì, male che vada non devi sorridere, sinché non te lo riparo. Qui invece c'è da andare dal medico di base. Ma se è il culmine della radice, ti devo puoi salvare con la piccedomia? Si fa una ridevitalizzazione oppure estrazione in pianto. Se è proprio l'ultima spiaggia, si fa quello. Ma estrazione in pianto, l'impianto dove c'è lo dente? Si, si fa guarire prima. Si estrae, è medico di base, guardia medica, maxillo facciale, chirurgo. Ci sono gli ospedali in Italia che tolgono i denti. Se uno ha dolore e d'urgenza prendono e te lo tolgono al dipartimento di odontoiatria. Non so quale città siete, voi a Cagliari c'è per esempio, che ne so, quello vicino all'asse mediano. Anche a Sestu per esempio, al Brozzo, li tolgono i denti. Stutture ospedaliere, le emergenze, le fanno? Ok, le emergenze, i dolori, te le fanno nelle strutture ospedaliere. Quello che non ti fanno è gli impianti, le protesi. Qua cos'ha? Che cosa vuol dire? I denti dall'arte. La gengiva che guariva qua, si è preoccupato perché c'era la ferita qua nel palato. Qua aveva fatto prelievo di gengiva dal palato. Ok, ci vuole tempo perché guarisce la zona di prelievo. Ha un buco nel palato. Dice che ha un buco nel palato. Ok. Quando fa l'operazione, si crea la fibrina, che è una sorta di cerotto naturale. Se però poi mangi e quel cerotto va via, rimane il buco. Prima non c'era, ora c'è il buco. Oddio che c'ho. Quella guarisce. Nell'arco di circa una settimana scomparla. Si chiude. Paziente non nostro questo è stato a Zagabria. Gli hanno messo un bel impianto Strauman sulla radice di un dente naturale. Si può fare qualcosa? Sì, dobbiamo togliere questo e questo. Tutte e due. E anche questo. Qua gli hanno messo una capsula sopra un impianto. Limando l'impianto perché non potevano, non trovavano, e anche qua stessa cosa, vedi questo buco. Hanno limato con la fresa per incollare sopra un dente come qua. Questa è alta carpenteria. Anche qua e anche qua. Non hanno usato delle connessioni abitate, ma è come che tu c'è un tassello nel muro. Trapani il tassello e ci metti un altro tassello incollato. Proprio così hanno fatto la stessa procedura. Che si può fare? Devi carottare via gli impianti, ricostruire l'osso, poi mettere degli impianti in maniera corretta. Questo non è vietato dalla legge, trattare così. Cioè sì, è vietato, però non c'è chi denuncia. Questi, vedete, sono tutti i denti strappati. Cosa hanno in comune? Vedete anche qua il becco di flauto? Strappata becco di flauto. Non è mai netta, orizzontale. Lo strappo. Non è scheggiato, è proprio tranciato di netto. Vedete una cosa che hanno in comune i pazienti con la piorrea? La lingua fissurata. Fissurata, con le fessure. L'avete mai vista la lingua fissurata? È il motivo per cui bisogna usare il pulizio in lingua. La lingua fissurata, ve la faccio vedere ora. C'è qua nella sezione video come fare. Oltre al video su come vanno puliti gli impianti, come va usato lo scovolino, come va usato il pulisci lingua. Vi ho messo un video in italiano che ve lo spiega. Si passa semplicemente il rastrellino sopra la lingua. Solo che la sua lingua non ha taglietti. È tipo il velluto. Poi esiste questo tipo di lingua, non è nessuna malattia, è semplicemente un tipo di lingua diversa, che ha dei taglietti, che raccoglie acidità, batteri in mezzo. Qua è fondamentale usare il pulisci lingua. Se hai più fumi, è un patatrack. Perché lì dentro si selezionano i batteri, quelli cattivelli. Ok, vedete qua, non a caso, pazienti che abbiamo, tantissimi hanno questa tipologia di gengiva. Paziente, questo cos'è? Te lo ricordi? Sì, ma questo è un lavoro che gli hanno fatto in Croazia, non si può fare nulla. Gli hanno messo impianti dentali storti, quella che se tu li fai anche più in qua, ma so dritti, l'occhio umano non lo percepisce. Anzi, li vede normali, naturali. Se invece io te li faccio centrati nel viso, ma la linea è storta, quello l'occhio lo vede subito, che i denti sono storti. Quindi c'ha delle asimmetrie di proporzioni qua, poi in realtà relative, perché quando sorride non scopre col labbro. Quindi quella parte lì su non si vede più. Non si vede neanche. È una fissa. Era fissa con quella... È una fissa. È una fissa. Ha senso fare questo tipo di grosso reintervento per un qualcosa che manco si vede? Noi l'abbiamo detto di no. No. Rischio chirurgico, rischio after care, ci può essere il rigetto dei nuovi impianti, il rigetto dell'innesto per una piccolare, non si tratta di tutta la bocca. È un fattore estetico, infatti. È un fattore, ma neanche estetico, perché non si vede. Gli impianti sono integrati bene nell'osso, meglio non toccare nulla. Rischi di finirla peggio di come inizia. Questo è il sorriso massimo chiaro. Sì. Ci sono invece i sorrisi gengivali, dove si vede allora lì ha senso reintervenire, ma nero su bianco, bello grande, di quelli che sono i rischi. Ha senso, lo farei su di me, non ci riandrei sotto i ferri. Quindi è meglio di no. Non ci riandrei perché non è garantibile un risultato migliore. Invece è una cosa dove, anzi, a fare l'intervento ha i solo miglioramenti, allora ha indicazione lì l'intervento. Ok, dente. Fratturato. Questo è un carico cessivo per la mia. Ancora non si è strappato, poi di notte si meraviglierà il giorno dopo e mi si è staccato di notte. Ok, quelli che vi dicevamo prima, che poi si staccano con i movimenti inconsulti di notte, però è perché si sono già primacrinati. Oppure ci possono essere dei movimenti belli bruschi, che allora lì arrivi al massimo di rottura. In quei casi, soluzione? Bite. In quei casi, se vedete che siete contratti, in Italia, sempre in farmacia, hanno tutto. Sono i primi concorrenti dei dentisti, le farmacie. Dottor Brooks si chiama, 70 euro, 60 euro, mi pare che si chiama. È un bite automodellante. Lo metti nel pentolino d'acqua calda e poi lo stringi coi denti e prende la forma dei tuoi denti. Per il periodo dei provvisori questo si può usare. Ok, poi l'importante è che si risolve la problematica con i definitivi. E comunque non è che puoi andare tutte le notte a dormire con questa vita. Per un periodo breve. Ecco, è così. Qual è il sessismo? Ok. Bruxismo serve un altro tipo di bite. Più leggero che però facciamo noi. Andiamo avanti su qualche altro problema. Poi non voglio annoiare troppo. Potete fare tante altre domande a Ole. Questo è strappo, strappo. Questo? Cosa è che è successo qua? Manco un pezzo di ceramica. Saltato un pezzo di ceramica. Ok, questa va tolta il ponte, è rimessa ceramica e è messa a fondere a mille gradi. Il vetro va rifatto, praticamente. Il pezzo che si è scheggiato. Come la lingua, la vedete la lingua? Ora qua i taglietti. Questo è Zirconio. Questo è Zirconio. Dove si rompe? Anche i definitivi si possono rompere? Certo. Non strappate mai. Andiamo avanti. Qua davanti pure ha perso una parte esterna. Dice Rame. Questa è proprio flessione. E salta la parte esterna per flessione. Notate che sono quasi sempre i denti anteriori. Questo cos'è? Il tartaro. Quel colotto, per esempio, è il suo... Il tartaro. Questo è il tartaro. Questo è macchie da tabacco. Perché se era colluttorio, questo non c'era. Ci sarebbe stato solamente macchie, ma in tutta la protesi. Non tartaro e poi macchie da fumo solo qua all'interno. In genere le macchie da fumo noi le riconosciamo perché sono qua. Se è colluttorio, è esterno. Allora quello è colluttorio. Ma se è solo interno qua, E' lì che si deposita il fumo. Questo è un PMMA. Protesi provvisoria in PMMA. Guardate dove stanno gli impianti e dove deve arrivare il dente. E' una leva sfavorevole. Perché quando perdi i denti, l'osso se ne va verso dietro e verso l'alto. Con i provvisori, per riunire i denti al morso corretto, Devi portarli avanti i denti, Se no te li devo fare in dentro. Il compromesso è che non ci devi mangiare. Ci devi bere con quei denti, Parlare con le persone. Ci puoi sorridere, Ma non ci devi mangiare uovo sodo Per quei mesi di guarigione. Altrimenti la plastica si rompe. Poi le abbiamo anche migliorate, Cercando di fare barri interne, Ma anche con le barre, ve le ho fatte vedere prima. Ma strappano tutto. Perché è una vita che non mangiavano. Appena ci hanno i denti fissi, Capisco anche. Perché comunque, anche a me piace mangiare. Se tu mi metti ora, che ne so, I carciofi che non li mangio da forse un anno. Frega nulla se c'è i provvisori, C'ho voglia di mangiarmeli quei carciofi. Qua non ci sono i carciofi. Per dire che, delle volte è dura resistere alla tentazione. Ok, che fai in questi casi? Sono i carciofi supericolosi. Perché sporcano quelli. Non so. Sporcano molto. Tu mi metti il crudo con l'uomo e il sale. A foglia a foglia. Quello strappa. Vai a strappare. Non vai a morsicare. Tu mi vai a strappare. Io voglio cotto, non crudo. Anche crudo con l'olio, sale e limone. Anche con le uova, tagliate a fettino. Qua, questo è bellissimo. Allora, qua, paziente, capita che dopo le estrazioni sente delle puntine. Chi è questo? Non mi ricordo niente. Guarda qua, una puntina ce l'ha. Ah, l'osso che si forma, ragazzi. Qua? Qua abbiamo fatto tanto inesto di osso. Qua una puntina bianca. E l'osso che si forma. Qua è l'inesto osseo? O l'inesto osseo o l'osso che rimane che abbracciava prima le radici. Toglie le radici, rimane la parte esterna puntita. Che succede? Quando poi apriremo per trovare gli impianti o mettere altri impianti, quelle le limiamo, le allisciamo. Ok, non è un problema quello. Anestesia non si dì niente. Lui ha chiamato perché gli faceva male la protesi, come la metteva. Quelli punti da, la protesi mobile, aveva due protesi mobile. Punti da smussare poi nell'osso. Però durante i provvisori, perché la protesi balla dopo un mese? Si ritrae la gengiva. La protesi non si modifica, è resina. C'è la forma di dopo la chirurgia. Infatti dopo un mese bisogna? Ribasarla. La protesi mobile è per forza. La protesi mobile, odontotecnico. Chi è che le fa le ribasature alle protesi? Il dentista, l'odontotecnico. Tutte e due. Se la fai dal dentista, te la fai in bocca, ok. Oppure prende l'impronta e la manda all'odontotecnico. Perché il dentista ci fanno anche i dentisti? Ne ho detto nulla. Ok. Delle volte, se puoi abbassare i costi, di emergenzine come queste, se proprio non trovi, sono più bravi delle volte. Ne hanno fatte talmente tanti. Questa cos'è? La vite, il guarigione, vedi che qua si è creato un puntino bianco. È entrato cibo qua. Tra la vite e la gengiva. Esatto, disfezione. C'è un'infezione. C'è un'infezione. Che fai? Sviti la vite, disinfettate e riaviti. Questo è un problemino. Ma è entrato il cibo? Sì, può capitare. Avete mai mangiato i pop corn? Vi si infilano tra la gengiva i denti? Vi si infilavano? Stessa cosa. Perché lì il cibo ci va, non essendoci il dente. Ci si può incastrare in mezzo. Infatti evitate sempre cibi che sono duri durante il periodo dei provvisori. Guardate la lingua qua. È normale. Però c'è più acidità qua, in questa bocca. Infatti vedi che sopra ha perduto tutti i denti, no? Questa è la lingua. Questa è la lingua fissurata, si chiama. Questa era preoccupata perché c'aveva ancora i punti. Cadono da soli quelli. No, l'arco dove c'erano i denti, il gengiva. Andiamo avanti. Qualcosa che c'è? Spazi sotto la protesi provvisoria. Loro pensano che si vendono gli impianti, però non sono gli impianti. L'impianto è dentro l'osso. Questo che si vede sono le connessioni che fanno tra... Il colletto che connette alla protesi. Normale qua si riassorbe. Meglio che si aspetta anche sei mesi, otto mesi. Quando poi è bella riassorbita, il gengiva mettiamo i definitivi. Con una forma delle protesi che vanno anche in compressione sulla gengiva guarita. Guardate questo. Fate attenzione che se avete bisogno in farmacia vendono anche i kit come lo specchietto del dentista. Vendono tutto, vi ho detto, in farmacia. Se serve una foto, vedere qualcosa e non vi torna. Stessa cosa di prima. Dell'osso. Vedete la gengiva come si ritira dopo la chirurgia. Questa non è matura. Infatti si vede ancora il taglio. Dove? No, no, no. Questa è osso. Cicatrice. Cicatrice. Queste sono le cicatrici ancora dei tagli freschi. Questa è una ferita di massimo 30 giorni. Massimo. Perché ancora non è tutta riassorbita. Non si è creato tanto spazio. Sta appena riassorbendosi qua. Volevo chiedere una cosa sulla cosa di prima. Il definitivo, abbiamo detto, va anche in compressione sulla gengiva. Sì. Non diventa parecchio più difficile la pulizia? No, vicino agli impianti c'è sempre lo spazio per passare. Vicino agli impianti lasciamo uno spazietto per infilare quel filo che è il superfloss. Stessa cosa qua. Vedi lo spazio, più o meno, si può ritirare. Poi qua si sviterà l'impianto, in realtà è qua sotto il colletto. Questo è tutto un colletto di connessione. Si stacca, qua sarà tutto gengiva e arriva fin qua su. Fin qua. I problemi sono sempre questi alla fine, poi non è che cambiano tanto. Un'altra vita è tappo. Quante vite è tappo al mese? Oh, sono parecchio. Vabbè una ventina, quindi c'è una ventina. Di viti. Perché è meglio non stringerle troppo le viti tappo? Perché se no vai a sollecitare il filetto interno dell'impianto. Meglio sollecitarlo quando ha viti in maniera definitiva e definitiva. E' una cosa che ci chiedono sempre, ma la protesi definitiva va svitata per pulirla? No, ha viti ogni sei mesi e sviti, quella poi si spana. Poi non ha viti più. Anche i limpianti in fase di progetto vanno in determinato calico, no? Sì, vanno a 15 newton e vanno. C'è un cricchetto che si usa comunque. Questi vedete sono i provvisori. Ok, non vi annoio di più. La maggior parte dei problemi si hanno con i provvisori. Perché il paziente ha paura delle chirurgie, ha paura... Questo era per esempio un paziente che ha messo zigomatici. Questo è interessante. Zigomatici sono alcuni impianti che vanno qua sull'osso zigomatico. Ok? Entrano nell'osso e leggermente escono. E la paziente vedeva tipo un bernoccolo qua sullo zigomo. Perché? Ma tutti escono lì. Sì, escono. Gli impianti escono leggermente qua. Vedeva che rimaneva sto bernoccolo, anzi aumentava. Perché andava a toccarselo. Tocca oggi, tocca domani quella roba, poi si infiamma. E la senti sempre di più. Quando avete chirurgia in bocca, non toccatevi. Non toccatevi. Lasciatevi, non stuzzicate le ferite. Questa è una regola d'oro. Da poco pure. C'avevamo una paziente che si creava le ferite con lo spazzolino. Ah, ok. Mi ricordo. E quindi sembra che aveva una pressione qua la gengiva. La gengiva che c'era è diventata una gengiva mobile. E quindi non riusciva più a mangiare, non riusciva a stare bene. Però i definitivi li ha messi, li abbiamo messi ancora un anno fa. E ci ha mandato una foto col sangue. Lui si è spaventato e ha detto, guarda qua, in definitivi c'è il sangue sulle gengive. E ha detto, no, quello è trauma autoindotto. Perché sentiva fastidia, andava a pulire come se ci fosse qualcosa, fino a scorticarsi la gengiva. Perché era sangue vivo quello. Non era da morso perché sarebbe stato sopra nella linea, nella rima dove si morde, la linea alba si chiama. Se invece è verso il colletto, sangue vivo, quello è trauma da spazzolamento. Infatti è arrivata e il problema non era quello che dicevo io. Era trauma da spazzolamento. Perché c'era gengiva libera, non c'era mucosa, dava fastidio, però si traumatizzava. Questo per esempio, zigomo, questo è trauma da andare a giochicchiare e sentire, lascialo guarire, tranquillo, scompare da solo. Se io ti faccio un innesto e tu ci vai col dita a toccare lì, tu ritrovi nel dito l'innesto. E senti sta cosa. Questo è un piccolo, piccolo dettaglio che non abbiamo mai detto. Però alla fine lo vediamo e gli dico sempre, digli di non toccarsi. Però non abbiamo messo nei protocolli questo, lo dobbiamo mettere. Le ferite lasciatele in pace, non andatele a stuzzicare. Fatele guarire senza andare a sollecitare, né con dita, né con forchette, coltelli. Si riassorbe? Si crea osso attorno all'innesto, non è che si riassorbe. Provisore. Questa cosa è? Impianto. È caduto l'impianto. Ci scrive il paziente. No, questo è il tappo. Tappino. L'impianto è lungo, è molto più lungo. Questo è il tappino. Però se non lo sai, pensi che è caduto l'impianto. Questo è un impianto caduto, ok? Questo è un impianto, l'altro è una pit etappo. Capita quando c'è pochissimo osso attorno a dove abbiamo messo l'impianto. Infatti preferiamo non metterli. Quando c'è molti inestati a fare, meglio metterli all'impianto, aspetti e poi metti l'impianto. Non succede nulla, perché lo togli, guarisce, lì l'osso continua a guarire. Quando torni mettiamo l'impianto, dopo tre, quattro mesi, due mesi anche già si può mettere. Se c'era molto inestati, anche sei mesi. Ricordate una cosa per tranquillizzare tutti. I problemi che si possono avere in bocca si risolvono quasi sempre, tutti. Sono piccoli problemi. Non stiamo parlando di trappianto di fegato, trappianto di cuore. E' semplicemente da rimettere mano, si capa. Protesi si rompe, si rifà la protesi. Dente si stacca, si riattacca. Vite che si svita, si riavvita. La gengiva, l'innesto che, ok, sposta l'impianto, lo mettiamo qua invece che lì. Sono tutte cose che si risolvono. Più o meno complesse significa un percorso più o meno lungo. Però non sono mai problemi che non si risolvono. La nostra grande fortuna è quella che poi riusciamo sempre a risolvere rari i casi che non riusciamo a risolvere. Ok. Quelli diventano allora devoluzioni, ovvero si interrompono. Asistenza a Milano, Torino, Roma, Sardegna e anche, volendo, anche Venezia. Abbiamo un centro assistenza. Un centro assistenza c'è in ogni città. Se voi avete un dentista, ci date i contatti, gli chiediamo se vuol fare una convenzione con noi di assistenza. Dov'è il problema? Anzi, quale è il tempo migliore questo per non fare più il tabacchino che vende sigarette, ma anche i giornali, i grattevinci, fanno altro. Non vivi solo di vendere gli automobili, vivi anche di riparazioni di automobili. Fai Opel, Seat, Fiat. Fai solo assistenza. Viti, 50 euro. Stringi. Sempre. Poi se anche il salvatore tu, non è colpa tua, e chi se la prende con te? Stai anzi salvando. Se la prendono con noi. Ci esci bene, guadagni bene, fai poco intervento, non hai rischi. Alcune cose, io ora scherzo, però la faccio spesso sta battuta perché poi pian piano le persone stanno iniziando a vederla con una sorta di satira, a vedere anche che in realtà sono banalità, come quella del parrucchiere che ho detto prima. in realtà se tu vai a pensare a tutti i dentisti che hai cambiato, quelli che venivano dopo facevano altri lavori, a privi poco, avevi già capsule fatte da altri dentisti. Poi che non c'è scritto sulla capsula Dottor Palmas. Magari c'è scritto Sinai. O Roma. E' più intuibile perché dice un lavoro così grande, questo qui, soprattutto se ti conosce il dentisti come sono io in un paesino. Vai da un altro. Io sai cosa fanno, molti pazienti, molti pazienti sai cosa fanno? Fanno turismo dentale inverso, gli dicono guarda io sto facendo, vivo a Londra, sto qua a Roma due giorni, mi sei svitato, me la viti? E' certo che te la vito, vieni. Quando parti a Roma? E' tra due giorni, però lì mi costa troppo a Londra. Quanto mi fai tu? Fai il contrario, digli che lo stai facendo a Londra e loro stanno così facendo turismo dentale. Sei un medico, che di fronte a un'emergenza non puoi obbligare, però è strano che c'è sempre chi ti mette mano. E' una falsa, quello è cartello, è tirare fuori delle tesi per fare cartello, spaventare, far credere che non c'è soluzione. Ma perché tu, medico, non dovresti mettere mano su... quante volte ci sono i campi medici di famiglia? Quanti... che non ti curo più perché i tuoi miei figli erano prima in cura da un altro medico? E' la responsabilità che poi... non è vero, non c'è questo, non c'è...